ultimamente agosto i treni si ricordi che i treni sono arrivati a San Biagio a Stazione e adesso la piccola c'è la piccola a Terracino non è nella stazione la piccola c'è la piccola a correre i fumani che lo portano a San Biagio e fa quasi 13-14 km per fare la terra come faccio il biglietto a tutto il coso? non mi ricordo male e mi aspetta che i 4 posti di questo fumano come si fa pure lipposti come faccio il polso e c'è sempre un paese non è libero il prof medico io quando ho preso a me e cazzo e io quando Vztopac mi credo è libero il posto attiungando voi dobbiamo stare non sono soffrendo se a me mette il Vztopac a Piazza e ora sono parte di football senza riuscire a fare roba prego prego se tu tu non ti fai un po' non è un treno prego c'è lungo il biglietto mi diamo un attimo i suoi documenti dicono a me io gli ho dato il biglietto no il pacco sta occupando un posto dovete fare anche il biglietto è l'erosocial ma guardavo prego se io prego c'è proprio tu voleva linda non ti fa tu me non ti fai più non ti fai più non ti fai più c'è un po' mi chiede che cazzo che tu mi hai messo con il sole io ho tuccio 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 35 euro e io ho guardavo scuardo prego da tic ma viene per me ne facciamo un po' non si non balla non balla c'è tuccio così e lei è venuto qua la mia scena che era scena non lo parla con la terra gi come sarà per 3 poi se non va a capire se non va a capire